il comando della squadra io ho avuto prima qualche mese prima anzi 11 mesi prima il comando del dipartimento dell'alto tirreno dopo quando ero capo di stato maggiore della squadra un incarico a due stelle poi fui promosso e quindi tre stelle in carico al dipartimento dell'alto tirreno non mi aspettavo devo dire onestamente di tornare alla squadra 11 mesi dopo ce nemmeno un anno dopo se non che l'allora comandante in capo radio branciforte mi propose per sostituirlo nel nel compito lui andò a fare il campo di stato maggiore e io come braccio braccio destro come comandante della squadra fui ovviamente contentissimo perché per un ufficiale di marina credo comandare la squadra navale sia veramente il massimo al di là dell'accademia che ha dei ritorni di tipo sicuramente anche anche voglio dire per ripercorrere certe strade la anche il comando della squadra per me era ripercorrere dunque la squadra era la quarta volta che io stavo alla squadra non era la prima era la quarta volta la prima nel 75 76 la seconda con l'ammiraglio marulli prima del garibali 79 83 capo di stato maggiore nel 2004 2005 e poi comandante in capo 2006 quindi conoscevo bene ecco la le dinamiche della della squadra devo dire che comunque era un incarico non dico inatteso era da far tremare i polsi io dicevo come di sia birindello ammiraglio birindelli io avevo come riferimento lui non era solo il mio padrino ma quando lui fece comando della squadra che cercò e riuscì in buona parte a riportare la squadra a un livello di rango di reputazione devo dire di che si era perso un po nel tempo a causa delle delle anche delle andamento della società di quel tempo sta di fatto che la marina era abbastanza negletta lui disse vogliamo delle dei dei del una marina di serie b o serie c ma lo dovete dire fece una riunione dalla squadra a cagliari altrimenti il governo premier con cui poi ebbe a trattare anche la questione bisogna prendere atto che insomma non possiamo alimentare dei cittadini di serie bio serie fece una esercitazione in cui c'era un maraglione della madonna e poi riunione con tutta la stampa a cagliari in rada a cagliari e fece questo onesto obiettivo ma difficile discorso quando si tratta di travasare verso l'esterno un qualcosa che normalmente era molto molto endogeno più che più che verso l'esterno allora io feci riferimento alla milanio birindelli anche nel mio nel mio discorso difficile da emulare ma un riferimento poteva costituirlo sicuramente le attività credo sia state a tutti i livelli ecco ambito nato per la risposta immediata della nabia cercato di aderire alle varie esigenze sia europee sia della nato in particolare mi è capitato a sommare al comando all'incarico di comandante della squadra anche il comandante il comando del della forza marittima europea quindi a livello europeo ho avuto l'incarico abbinato al cinque della squadra quindi della forza marittima europea che allora era stata destinata a operare dalle parti di israele striscia di gaza e quindi libano io avevo un detachment continuo ho avuto per 20 e rotti mesi 22 mesi in libano con un ammiraglio un contramiraglio alle dipendenze con uno staff e gestivamo siamo arrivati a gestire fino a 16 18 navi in quella in quella fascia in quell'area di gaza per il mantenimento di quello di quell'equilibrio che anche oggi comunque sempre è sempre abbastanza precario ma per evitare trasferimento di armi trasferimenti illecito ovviamente di armi e di altre di attività diciamo non 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 legali dal contrabbando ma soprattutto il traffico di armi verso e sbola verso le delle delle realtà non non istituzionali sicuramente quindi quell'incarico effettivamente è stato un incarico double perché ha duplicato due staff piuttosto consistenti quello per la gestione degli assetti nazionali quindi a livello squadra normale e quello a livello della squadra di euro mar for cioè la forza marittima europea che per la prima volta è stata impiegata in teatri di crisi normalmente era impiegata in teatri esercitativi è stata un'esperienza notevole impegno ovviamente altrettanto altrettanto notevole la squadra lo ripeto e credo la squadra di circa 18 mila persone riguarda le navi riguarda i sommergibili riguarda gli aerei riguarda gli elicotteri riguarda il san mare con le forze anfibie quindi tutto la come dire l'environment operativo della marina è sotto la squadra era l'ultimo da mettere da quel comfort air di cui ho parlato prima l'aviazione navale per la parte operativa in maniera che non ci fossero distinguo fra la parte navale la parte aerea la parte anfibia la parte forze speciali quindi che lì dal punto di vista organizzativo è stato fatto credo molto moltissimo perché ha tentato anche dal punto di vista addestrativo di creare degli standard uguali per tutti e non solo addestrativo ma anche valutativo cioè prima i nostri gruppi di volo per dire un esempio o altre realtà erano distaccate ai dipartimenti che erano un po delle isole per conto loro avevano un minor valore anche dal punto di vista operativo perché noi non avevano una visione complessiva dei problemi come quelle con quella riorganizzazione è stato posto tutto alle dipendenze del comandante in capo della squadra il quale ha assunto l'onere maggiore per gestire tutta questa 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 entità di vario genere ma anche ai fini valutativi io dicevo sempre perché il comandante che so io di un gruppo di volo deve avere le note caratteristiche fatte da un ammiraglio che poi in fase di valutazione conta di meno che non il comandante in campo che è quello che probabilmente conta di più per un fatto di prestigio dell'incarico e allora in quel modo si uniformava tutto da dipendeva dal comandante in campo il quale faceva le note caratteristiche quindi le note di merito diciamo a tutti sia a chi volava al sommeggibilista o al chiaro secondo una scaletta che non è che gli arrivasse pure quello del guardia marina ma soprattutto per il progresso dell'impresa dei più grandi gli arrivava però comunque tutto per evitare che che so io quante di gruppo fosse figlio di un dio minore e che poi fosse già automaticamente penalizzato anche in fase di oggettiva valutazione quindi non per far primeggiare l'uno l'altro ma per giustizia dal punto di vista proprio del merito quindi questo è stato forse la l'aspetto anche concettuale più importante addestramento standardizzato su tutti i vari segmenti e valutazioni paritetiche fatte da un unico ente da un unico signore che aveva lo stesso valore poi anche nelle nei confronti della della carriera di questi di questi ragazzi questi giovani questi di tutti gli ufficiali quindi in non in quel periodo ma dopo quando io avevo lasciato la avevo attaccato al casco il attaccato il casco al chiodo e il berretto pure nel 2009 però successivamente venne alla ribalta al caso dei due fucilieri di marina dei due fucilieri marina su cui avevamo lavorato moltissimo per dare la possibilità ai nostri soprattutto a quelli della marina mercantile di avere dei team di protezione a bordo team di protezione per la sicurezza dei sia dei passeggeri sia degli equipaggi io iniziai quindi invece adesso rientro nel nei ranghi iniziai nel 2005 mandai la prima nave nave naviere nel bacino somalo perché perché in quel in quel quel quei mesi furono attaccate due navi il jolly smeraldo della della jolly della compagnia jolly e il cielo di milano furono attaccati subito dopo da pirati subito dopo aden loro facevano la tratta poi andavano da spezia da genova andavo fino a mombasa in kenia quindi passavano davanti a tutta la costa somala mogadiscio compreso arrivavano giù a mombasa inizialmente passavano sui 50 70 miglia dalla costa e li venivano erano stati attaccati dai pirati per cui corsi ai ripari mi ricordo era al 4 agosto del 2005 quando richiamai una nave una fregata nostra mandai da quelle parti per la missione anti pirateria anti pirateria che poi è andata avanti si è anche voluta nei termini e abbiamo dal punto di vista legislativo previsti questi nuclei di protezione a bordo dei mercantili cioè oltre la nave o il gruppo di navi che poi si erano costituiti perché si erano costituiti delle task force che diciamo da babbel mandeb dall'uscita di suez aden e poi pattugliavano lungo la lungo lungo l'oceano perché non era non è un io mi ricordo per fargli fare il fornimento di gasolio era un'impresa perché non c'erano punti di rifornimento e soprattutto per tra parentesi proteggere le navi del world food program che andavano dalle parce andavano a apportare alimenti al ai somali in particolare che ne ottima soprattutto ai somali e che questi pirati attaccavano attaccavano e partivano le navi che poi venivano sequestrate lasciate per mesi vi ricordate tutti i casi la si cattolino eccetera anche anche con coinvolgimento direttamente nostro quindi l'attività di protezione antipirateria l'abbiamo iniziata la marina militare stata antessiniana rispetto a tutte le altre marine a tutte perché si sono stati attaccati due nostri due nostri mercantili come ho detto prima quindi eravamo in dovere di dopodiché si è evoluta e abbiamo per legge hanno istituito i nuclei di protezione che invece erano costituiti da 6 8 persone che andavano a bordo imbarcavano su questi mercantili sui passeggeri o anche sulle petroliere che battevano bandiera nostra a protezione dell'equipaggio da lì venne a distanza quindi parliamo del 15 febbraio 2012 ci fu il caso in della enrica alexia lexie davanti al porto di coci in india davanti al porto per la verità erano a 30 quasi a 31 miglia a largo dove erano imbarcati un nostro team di di ragazzi del battaglione san marco a tutela dell'equipaggio e per fare un'attività di antipirateria a prescindere quindi per evitare questi imbarcassero e si impossessassero della nave e dei dei beni e anche probabilmente della vita della gente sono mettendoli in pericolo noi da da quel 15 febbraio la vicissitudine è stata è un'odissea di questi due ragazzi di la torre girone che tra l'altro conoscevo perché era stati alle mie dipendenze cioè come battaglione san marco come reggimento san marco quindi gente che conoscevano in maniera voglio dire ma a carattere piuttosto generale stati gente volontaria che era nei ranghi quando io ho fatto quanti in campo e che venivano gestiti dalla squadra dalla squadra in concorso con quello che erano anche ovviamente l'apporto delle capitanerie per quanto riguarda i movimenti delle navi con questa con questi apparecchi della is dell'automatica identification system che adesso hanno per cui è un po come gli aerei no che hanno il loro risponditore a bordo automatico la stessa cosa adesso poi le navi ogni tanto lo tolgono poi era servito per i pirati per andare ad attaccare a cosi era capovolta addirittura la situazione però noi avevamo mandavamo questo team di operatori molto molto esperti e che quando si parla di san marco non parliamo di ragazzi di bottega che non sanno sparare un colpo o non hanno un condizionamento fisico adeguato loro compito proprio quello forze speciali quindi sanno cosa fare sanno quando sparare come sparare come intervenire abbiamo avuto n casi riferivano quando c'era qualche problema ovviamente alla squadra li sono stati gabbati ingannati per cui questa nave che si trovava a 30 miglia quindi in acque internazionali non avrebbe dovuto entrare non sarebbe dovuta entrare a cocci assolutamente è entrata è successo un patatracche perché effettivamente sono stati maltrattati come lì si trattava cioè gli hanno preso le armi che erano armi dello stato non erano lì in viaggio di piacere per andare alle malvinas alle alle maldive erano perché perché inviati dallo stato delle c'è stata tutta una una serie di di situazioni assurde non ultimo anzi per prima quella della della verifica balistica delle armi che era indiscutibilmente non erano le loro armi sta di fatto che una volta che gli indiani hanno preso possesso di questi due due ragazzi ma anche per una questione forse di così di falso orgoglio non so come dire li hanno trattenuti li hanno trattenuti alla fine l'hanno trattenuti per fino fino a poco fa noi come governo non abbiamo ritenuto opportuno avanzare questo arbitrato internazionale che è stato avanzato nel 2015 tre anni dopo ci sono voluti altri tre anni perché la tribunale dell'aia decidesse sul cosa farsi adesso un anno e spiccioli fa hanno deciso quindi che gli indiani si accontentano si accontenterebbero di un indennizzo di un milione due un milione e tre di euro che per loro sono una fortuna certamente e e quindi riconoscendo alla fine la giurisdizione italiana della bandiera italiana o quantomeno l'immunità funzionale legata a militari che operano nelle acque internazionali che sono degli standard che soffa sono riconosciuti da tutti ma fino all'altro giorno non è non sono stati riconosciuti dalla controparte indiana questi ragazzi uno tra l'altro ha avuto un ictus un infarto ma segnalano la torre quindi ha sofferto in maniera indicibile loro le famiglie io ho scritto molti articoli su questo questi eventi questa odissea perché ripeto mi colpiva direttamente ma io credo che abbia colpito anche il buon cittadino italiano che si è visto vessato spesso malmena maltrattato a livello internazionale noi abbiamo fatto un errore ha fatto un errore come diceva il mio amico l'ambasciatore terzi che si dimise per l'unico che si dimise nell'ambito del governo monti perché per non perché non voleva che fossero rimpatriati dopo quella specie di licenza pasquale nel 2013 che di che gli avevano concesso e sicuramente l'abc diceva era quello dice prima di comunque di entrare in un nelle acque territoriali che non c'erano era molto al di fuori beh prima aspettare capire quello che è successo e poi eventualmente con l'autorizzazione di chi è preposto e invece lì sembra che poi c'è stato sicuramente un rimpallo di responsabilità che meglio su cui è meglio tacere ma che alla fine chi ha pagato sono stati questi due ragazzi io li ho seguiti per quello che potevo seguirli ho scritto lettere anche al presidente presidente della repubblica anche all'attuale perché ritenevo cioè la loro odissea veramente un'ingiustizia che non faceva onore alla questa a questa nostra nazione detto detto questo quindi non ho iniziato a scrivere ma ho iniziato un'attività ho iniziato o così partecipato un'attività un po di lasciando il casco appeso perché non ho più quasi volato se in maniera cioè ma non da pilota ma da passeggero mi avevo sempre un desiderio quello di scrivere non che scrivi perché io non ho fatto il classico fatto il nautico quindi non gli scrittori migliori le dicono che vengono dalla da certamente da chi ha curato molto molto di più la nostra lingua però mi sentivo di esprimere anche un qualcosa l'ho fatto ho scritto abbastanza parecchio in qualche caso forse ho scritto troppo in maniera ipercritica e me ne scuso se se qualcuno si è preso voglio dire non era era assolutamente è assolutamente involontario scritto molti articoli che ho condensato ha raccolto poi in una buona quota parte in questi libri in questa trilogia che ho scritto a iniziare da lettere salmastri sempre con un taglio da marinaio del cielo e credo che scrivere serva anche così a dare piacere oltre a illudersi che ci sia gente che possa trarre degli spunti dal anche a livello formativo a livello sociale che possa trarre degli spunti da degli eventi che ognuno di noi hanno la vita più o meno più o meno scabrosi più o meno belli però che possa servire a questo e poi serve sicuramente a dare piacere a chi scrive cioè a dare piacere a me stesso grazie